non sarebbe di origine dolosa. Dopo il successo delle giornate europee e del patrimonio dello scorso fine settimana, con l'apertura gratuita di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche statali del grande patrimonio culturale italiano, da domani una nuova iniziativa del Ministero dei Beni Culturali. Ogni ultimo martedì del mese sarà possibile visitare gratuitamente dalle 19 alle 23 i principali musei statali italiani.